Si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giorgio delle Pertiche, il paese dove era nata, i funerali di Anna Panozzo, 88 anni, proprietaria di un noto centro di acconciature ed estetica a Padova. Anna Panozzo ha dedicato la sua vita all'imprenditoria in Rosa. Fondatrice del gruppo nazionale Confartigianato Donne Impresa, ne è stata presidente veneta e padovana, impegnandosi per oltre 30 anni nell'associazione di categoria.